Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Italpress Economy, subito le notizie dall'Italia, oggi lo dico già abbiamo una puntata ricchissima, notizie che riguardano l'Italia ma come sempre secondo uno schema che quasi spieghiamo un po' in tutte le puntate siamo ormai in una realtà glocal, in un mondo dove i singoli territori rispondono a ciò che succede nella geopolitica, ci stiamo insistendo da molto a ragione perché quello che accade nello stretto che è stata la penisola arabica e l'Africa per entrare nel Mar Rosso e poi Suez in Europa sta in qualche modo incidendo sulle nostre economie e quindi la battaglia dei ribelli uzzi, così si chiamano, per ostacolare il transito di alcune navi, soprattutto quelle diciamo tra virgolette occidentali, in quel punto costringe le navi a fare la circonnavigazione dell'Africa, più tempo, più spese, aumento di prezzi, rischio di aumento dell'inflazione. Ho speso un po' più di tempo dal solito su questo tema perché è un tema davvero importante, ora vediamo i servizi. Il 2024 si è aperto con nuovi rischi per i flussi commerciali dovuti alla forte riduzione dei transiti nel canale di Suez per gli attacchi del gruppo iemenita degli Houthi, a evidenziarlo è Confindustria nel rapporto con giuntura flash. I prezzi di gas e petrolio non ne hanno risentito finora ma restano alti. A fine 2023 il PIL italiano potrebbe essere andato meglio di quanto previsto, ripartiti i servizi e costruzioni, ma l'industria resta debole. Inflazione ai minimi solo in Italia, i tassi quindi potrebbero rimanere alti ancora per alcuni mesi. A novembre la produzione industriale ha subito un'altra inflessione dell'1,5% e la fiducia delle imprese ha continuato il trend decrescente. A inizio 2024 il blocco di Suez, se prolungato, può peggiorare lo scenario. Si conferma invece la dinamica positiva del mercato del lavoro, più 450 mila occupati a novembre da fine 2022. La crescita a ottobre-novembre è interamente legata ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul fronte dell'inflazione in Italia è scesa ancora a dicembre, ma è cresciuta in Germania e Francia, tanto che nella media eurozona è risalita al 2,9%. In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici, il saldo 2023 per le imprese italiane resta positivo, ma non per tutti gli ambiti di attività. Oltre il 70% delle 42 mila imprese registrate in più negli ultimi 12 mesi, infatti, opera in soli tre macro settori. Le costruzioni, il turismo e le attività professionali. È quanto emerge dai dati in mov imprese sull'andamento della demografia delle imprese nel 2023, elaborati da Union Camere e Info Camere sulla base del registro delle imprese delle Camere di Commercio. Il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il comparto delle costruzioni, che, nonostante l'incertezza sulle prospettive dei bonus legati al mondo dell'edilizia che ha caratterizzato il 2023, alla fine dello scorso anno ha contato 13.541 imprese in più rispetto al 2022. Bene anche le attività professionali, scientifiche e tecniche, trainate da un boom della consulenza aziendale e amministrativo gestionale. Anno positivo anche per il comparto della vacanza e delle attività immobiliari. I settori più tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per il commercio il 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 8.653 attività, coinvolto in particolare il commercio al dettaglio. Segno meno anche per l'agricoltura e la manifattura. È legittima la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato, non fondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 e 10 del Decreto Legislativo 23 del 2015. Si tratta del provvedimento che, in attuazione del Jobs Act, ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. La Corte d'Appello di Napoli aveva censurato la disciplina dei licenziamenti collettivi in relazione alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero. Si è previsto un indennizzo per il danno subito dai licenziati, ma non più il reintegro nel posto di lavoro. La legge delega aveva infatti escluso per i licenziamenti economici di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti a partire dal 7 marzo 2015 la possibilità di reintegro. Era stato invece previsto il solo indennizzo economico, limitando il diritto al reintegro solo ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. La Corte ha ritenuto che il riferimento contenuto nella legge delega ai licenziamenti economici riguardasse sia quelli individuali, per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi. Ha quindi escluso che sotto questo profilo ci sia stata la violazione dei criteri direttivi della legge delega. Un altro tema importante dell'economia degli ultimi tempi, il tasso di interessi, c'era molto interesse, se ci permettete il gioco di parole, per la prima riunione dell'anno del 2024 della BCE, Banca Centrale Europea, sentiamo che cosa è accaduto. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale restano rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4%. Secondo la BCE, la tendenza al ribasso dell'inflazione di fondo è proseguita e i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento. Le condizioni di finanziamento restrittive frenano la domanda, contribuendo al rallentamento dei rincari. Il Consiglio Direttivo conferma l'impegno ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine e i tassi di interesse a livello attuale forniranno un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo. I tassi resteranno su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti. Gli obiettivi concordati prevedono una riduzione del 45% delle emissioni al 2030, del 65% al 2035 e del 90% al 2040, oltre al target del 15% al 2025 già previsto dalla normativa vigente. I target si applicheranno ai veicoli pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e agli autobus. Per i nuovi bus cittadini è previsto un taglio delle emissioni del 90% entro il 2030 per poi raggiungere le zero emissioni entro il 2035. Nel 2027 l'Unione europea farà una valutazione intermedia degli obiettivi. Le nuove norme contribuiranno a realizzare le ambizioni climatiche dell'Unione europea per il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Lo scopo è anche quello di incoraggiare una quota crescente di veicoli a emissioni zero nel parco dei mezzi pesanti europei. Nel 2035 le norme saranno estese anche ai veicoli professionali come i camion della spazzatura o le betoniere. Sono esclusi i produttori di piccoli volumi e i veicoli utilizzati per l'estrazione mineraria, la silvicoltura e l'agricoltura, i veicoli ad uso delle forze armate e dei vigili del fuoco e i veicoli destinati alla protezione civile, all'ordine pubblico e all'assistenza medica. Siamo al nostro focus, il cui titolo, la parola chiave è privatizzazione, una parola che conosciamo da tanti anni in politica economica e che però anche nelle ultime ore, negli ultimi giorni, adesso poi lo affronteremo subito con il nostro economista Giuliano Zoppis, sta creando anche parecchie polemiche politiche. Allora subito Giuliano benvenuto a questa puntata di Talpersi Economy, ti chiedo com'è la situazione, il ministro dell'economia Giorgetti ne ha parlato, in poche parole semplifico, lo Stato non vende tutto, non svende, vende alcune quote di azioni di alcune società che sono statali per ricevere dei soldi, però è anche vero, e ti introduco un altro elemento, poi lo affrontiamo in maniera ordinata, che lo Stato va a intervenire su alcune questioni industriali importanti, insomma comprando delle azioni per salvare queste aziende, quindi c'è un movimento doppio, privatizzare da un lato e nello stesso tempo statalizzare in un altro. Cominciamo col primo campo. Sì Claudio, qui stiamo parlando del ruolo dello Stato come azionista, il punto di partenza è questo, abbiamo preso un impegno con Bruxelles per attuare un piano complessivo di privatizzazioni di circa 20 miliardi di Euro, l'1% del PIL, fino al 2026. Cosa significa? Significa che i proventi di questo piano andranno a copertura del debito, perché il nostro rapporto debito-PIL, ricordo ai nostri ascoltatori, in questo momento è elevatissimo, al 140,2%. Con questi soldi noi dovremmo arrivare nel 2026 non a un miracolo, ma a tenere sotto controllo questa massa di debito portandolo sotto il 140%, quindi questo è l'obiettivo macroeconomico di finanza pubblica che lo Stato si è posto. Quali sono le cose sul tappeto? Lo Stato è azionista di controllo e di partecipazione di molte aziende, molte di queste sono quotate e costituiscono l'asse portante della Borsa italiana. Ricordo fra le altre l'Eni, l'Enel, Leonardo, Enav, Terna, Metal Gas, Snam, etc., autostrade attraverso CADP e via dicendo. In questo momento il focus che il governo sembra aver messo è su quattro realtà. Una è l'Eni, l'Eni vale 50 miliardi in borsa, la quota del MEF salirà al 34% adesso per un effetto contabile e si punta a mettere sul mercato il 4%, con un incastro di circa 2 miliardi. Fermo restando che in questa situazione, così come in tutte le altre, non stiamo parlando di privatizzazione e concessione di controllo, anzi stiamo parlando di un'operazione che vorrebbe essere di politica industriale per mantenere il controllo di queste realtà fondamentali che ricordo a tutti sono anche difese da un'arma, possiamo dire così, che si chiama Golden Power. Sostanzialmente è la cosiddetta azione d'oro che controlla e serve allo Stato per tenere sotto controllo queste realtà. Oltre a l'Eni abbiamo le poste, si punta a mettere sul mercato fra il 10 e il 20% di una quota totalitaria di controllo che ha lo Stato con un incastro di circa 2 miliardi e mezzo. E poi abbiamo la vicenda di successo, perché è una storia di successo del Monte dei Paschi di Siena, per il quale lo Stato ha incassato già circa un miliardo mettendo sul mercato il 25% e controlla ancora una quota del 39% che potrebbe finire sul mercato. Ultima, ma anche non ultima, è la situazione delle ferrovie dello Stato, probabilmente la più complicata, perché per arrivare a mettere sul mercato una quota anche piccola, bisogna probabilmente arrivare a una serie di modifiche normative e non da poco. Questo è il primo blocco di notizie che tu ci hai dato, dandoci la notizia anche principale, in senso politico, che si tratta di cessioni di azioni per avere dei soldi che in accordo con l'Europa, con Bruxelles, diciamo tutte le volte oramai che c'è questo dialogo stretto nelle scelte anche di economia nazionale, servono per dare in un tot di anni un po' di soldi per diminuire il nostro debito pubblico, vedere patto di stabilità di cui abbiamo discusso, mi sembra all'infinito, ne discuteremo ancora qui in questa sede, però senza perdere il controllo di questi cosiddetti beni nazionali in termini di proprietà. Allora io prima di venire alla seconda parte, lo Stato che invece investe, chiariamo un po' la polemica politica, perché l'altra sera ospita Quarta Repubblica di Nicola Porro, che troppo è stato un programma della testata video news che ho diretto per tanti anni a Mediaset, il Presidente del Consiglio Giorgio Meloni se l'è presa con un titolo di Repubblica e diceva che lei svendeva l'Italia, ha detto, insomma voi che siete della famiglia Elkan, quindi insomma Agnelli, vedete quello che hanno fatto Agnelli con la Fiat e non mi date lezioni, poi c'è stato un question time in cui di nuovo le opposizioni l'hanno attaccata, però ora al di là non ne parliamo in questo contesto di che cos'è la democrazia del rapporto tra la politica e l'informazione e io sono del parere che i giornali fanno tutte le inchieste e tutti i titoli che vogliono, ma sono anche del parere che anche i politici possono rispondere come vogliono, perché sennò la democrazia diventa squilibrata per cui chi ha un ruolo non può dire, chi ha un ruolo può dire tutto o forse troppo, tutti quanti in democrazia hanno la libertà di critica in un senso o nell'altro, giusto caro Giuliano? Assolutamente, secondo me la polemica venga a leggere su due piani, da un lato c'è il discorso assoluto della piena indipendenza dei giornalisti e del rispetto alla libertà di stampa, dall'altro è innegabile che la Fiat non sia più italiana e che comunque la Fiat abbia goduto anche di importanti incentivi, aiuti da parte dello Stato e che comunque abbia trasferito la sua sede anche fiscale all'estero, questo è un dato di fatto e quindi subentra questa polemica che secondo me non è esatto intrecciare fra proprietà di un quotidiano e realtà industriale, però come dicevi te è giusto che a un certo punto anche venendo attaccati uno possa replicare, quindi questo è innegabile. Peraltro non è una vicenda isolata e passo al secondo blocco di oggi, noi stiamo parlando adesso della situazione dell'Ilva che è una grande acciaieria e anche dita, sono situazioni in cui probabilmente si sono ingenerati equivoci anche dal punto di vista del controllo, adesso il caso di Taranto, la più grande acciaieria europea, probabilmente si sta riaprendo perché il duo franco-indiano si è reso conto che forse uscire con i soldi, questi 300 milioni di cui si parla e probabilmente abbandonare una realtà così industriale importante sarebbe un errore, quindi forse è una vicenda, una partita che si sta riaprendo, l'unica cosa certa è che comunque il governo, lo Stato ci ha messo 320 milioni di Euro nostri, fra bollette, per portare avanti la situazione dal punto di vista industriale, perché altrimenti non si paga l'indotto soprattutto e non si pagano le imprese e non si pagano addirittura le bollette che questo non si sa perché non sono state mai pagate in questi ultimi mesi. a proposito di vita, chiudiamo, siamo fuori tempo ma la domanda te la faccio, mi sembra una situazione che comincia a diventare drammatica, c'è chi dice che con la metà degli aerei e del personale perdono il doppio di quello che perdeva l'Italia in attesa di questo sblocco europeo per una company che dovrebbe essere fatta e che invece ancora non vede la luce, è così? Ricordiamo la vicenda, abbiamo sul piatto l'offerta di Lufthansa per il 41% delle azioni di Alitalia con una possibilità di salire al 100% nel 2023, per un esborso da parte di Lufthansa di 325 milioni di Euro, ma la burocrazia di Bruxelles sta menando parecchio sui sacrifici che Lufthansa, Alitalia e Ita dovrebbero compiere per non incorrere nei libri di concorrenza. Si parla di una riduzione importante delle rotte in Italia e verso il Nord America e anche un utilizzo molto minore da parte della nuova compagnia di Linate. Sono sacrifici importanti, il tutto si dovrebbe risolvere auspicabilmente entro giugno, entro giugno è importante perché tradizionalmente la stagione estiva è quella più ricca per una compagnia aerea. Grazie per ora Giuliano Zoppis, ci rivediamo ovviamente la prossima settimana, ma intanto ci vediamo insieme in servizio sulle novità della tecnologia, una domanda oramai che ci rincorre un po' in tutti i campi, un po' tutti i giorni, è possibile controllare, dare delle regole a questo sviluppo vorticoso dell'intelligenza artificiale? Vediamo! Se appena 40 anni fa qualcuno ci avesse descritto il processo esponenziale con cui la tecnologia avrebbe cambiato le nostre abitudini quotidiane, probabilmente in pochi ci avrebbero creduto. In pochi avrebbero immaginato come sarebbero radicalmente cambiate le relazioni umane, come con un solo dispositivo saremmo riusciti a svolgere la maggior parte delle funzioni sociali. E questa realtà continua a cambiare sotto i nostri occhi a una velocità crescente. Per questo quando si parla della necessità di regolamentare l'intelligenza artificiale dovremmo prima fermarci a riflettere di quale intelligenza artificiale vogliamo parlare. Di quell'embrione casalingo di intelligenza artificiale che risponde ancora a fatica alle nostre banali domande o che ci consente di giocare a modificare le nostre foto come se fossimo tutti perfetti fotoreporter? Di quella che ci consente di comunicare con un arabo o un giapponese in tempo reale? O quella che ci permette di processare enormi basi di dati? O dell'intelligenza artificiale dei mesi e degli anni a venire? Dobbiamo farcene una ragione. Mentre in questi mesi a Bruxelles si è parlato della prima legge sull'AI, questa intanto ha continuato a evolvere e continuerà a farlo frattanto che entrerà in vigore il primo AI Act. La politica, le istituzioni hanno fatto fin qui quanto di loro competenza ma dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte a un fenomeno senza precedenti e non facilmente controllabile. Un fenomeno che potrebbe in tempi relativamente brevi non essere esclusivamente umano. Negli anni 40 del secolo scorso lo scrittore visionario Isaac Asimov fu il primo a intravedere le minacce delle intelligenze artificiali. In uno dei suoi libri, che restano nella storia dei classici di quella che allora era fantascienza, è stato il primo a parlare dell'esigenza di regole per robot dotati di autonomia. Nelle sue tre leggi della robotica, Asimov non descrive norme per gli umani e per chi crea i robot, ma le scrive per le macchine dotate di intelligenza superiore. Non è un pazzo, nei suoi libri esiste già una nuova razza superiore, quella degli umanoidi positronici. Indipendentemente dal fatto che possano essere dotate o meno di sembianze antropomorfe, chi in futuro possa imporsi una nuova categoria di intelligenze autonome diversa da quella umana è ormai più che una semplice ipotesi. Che questo possa portare una macchina o più macchine superintelligenti a governare il mondo ancora non è dato saperlo. Quello che sappiamo è però che già oggi esistono macchine capaci di eseguire alcuni compiti in modo autonomo e capaci di apprendere senza l'intervento umano. Questi sistemi possono diventare ancora più autonomi. Basterà una legge umana a controllarne o fermarne l'evoluzione? Il dubbio è legittimo. Siamo nel nostro format al momento dell'intervista, un'intervista oggi particolare per certi versi perché il nostro ospite diciamo ricopre più cariche. Noi di solito siamo in dei settori definiti, ve lo presento subito. Michele Criscitiello, benvenuto. Ben ritrovato, grazie. Grazie direttore. Ci conosciamo, ci diamo del tu, è un giornalista, direttore della testata di Sport Italia, conduttore del programma più importante di Sport Italia che è il calciomercato, dove io sono trasparente, spesso vengo anche, spero, gradito ospite, perché ho anche un'anima sportiva. Insomma, io, come dice mia moglie, sono un po', insomma, come il romanzo, sai, una stanza piena di gente, quelle che hanno più persone di trans, non a livelli clinici, lo dico prima, però ho vari interessi nella mia vita, ma è anche un imprenditore, quindi parliamo anche di calcio sicuramente, ma è anche un imprenditore ed è una storia bella, diciamo, come imprenditore perché comunque è anche founder, CEO e amministratore unico di Italia Sport Communication, insomma, in poche parole, Sport Italia è, oltre che una testata, una televisione, la tua azienda, poi parliamo di Sport Villa. Allora, però, spieghiamo un po' a chi ci guarda, perché io dico sempre che questo è un contesto di storie personali, no? Cioè, quindi, quanti anni hai tu? 40, da poco compiuti. Sei arrivato giovanissimo, sei arrivato a Milano... Al 2005, 23 anni, 22 anni. Allora che hai fatto dal 2005 a oggi? Stagista, partita IVA, dipendente a 1.200 euro per poi arrivare a creare la prima società, la Micri Communication, nel 2010, che poi ho avuto il piacere e l'onore di vendere il 70%, che quest'anno diventerà il 80% al fondo spagnolo Cirza con Blackstone, che è ovviamente il fondo americano che ha puntato sulla Micri Communication, Micri, che sta per Michele Criscitiello Communication, nel 2010. Il mio primo appalto fu con un club di serie A, era l'Udinese, della famiglia Pozzo, con i quali ho avuto un rapporto che è durato più di dieci anni, perché a me piace legarmi, non sono uno mordi e fuggi, per me sono i rapporti che durano tanto. Ho creato la mia prima società, che ha iniziato a fare degli utili, a generare degli utili, però poi la svolta c'è stata in negativo nel 2013, perché io, come tanti dipendenti di Sport Italia, perdiamo il posto di lavoro con la chiusura momentanea di Sport Italia nel dicembre del 2013, con l'azienda di allora, che chiuse con circa 70-80 milioni di debiti. Tarak Benhammar riprende il marchio Sport Italia perché era il suo e qualcuno del suo entourage gli dice ma c'era questo ragazzino che comunque gestiva già tutta la redazione, che nel frattempo da due o tre anni ha messo una società, perché ormai il marchio a bilancio a 16 milioni di euro ormai è perso. Proviamo. Il 2 giugno 2014 creo la Italia Sport Communication, rinasce Sport Italia, dalle ceneri, senza LCN, senza banda, senza nulla, e in dieci anni siamo arrivati comunque ad un buon traguardo. Che cos'è oggi? Raccontiamo nel mondo delle emittenti sportive, insomma, la gente conosce magari la storia di Sky, sa quello che fa Mediaset sullo sport, io sono stato anche direttore, come sai, di Sport Mediaset, sa quello che fa la Rai, è nata da Zon, pensiamo qualche anno fa uno che si immagina di vedere le partite su una piattaforma internet, no, però, insomma, Sport Italia è una realtà importante, dentro il panorama della comunicazione sportiva, racconta un po' tutto quello che fai, perché fai il TG, fai i programmi, internet, racconta un po' il meccanismo multimediale di Sport Italia. Allora, direttore, Sport Italia è l'unica televisione sportiva in chiaro, punto. Ci sono gli LCN che vanno dal 57 al 65 e in questo segmento sportivo che il governo diede appunto nel segmento sportivo c'è un solo canale sportivo, se togliamo Rai Sport, c'è Rai Sport al 58, erano prima due canali sportivi, Rai Sport al 57 e al 58, c'è Sport Italia su 60. C'è Super Tennis su 64, ma l'unico canale sportivo privato in chiaro dove l'utente non deve pagare nulla è Sport Italia. E fare una televisione senza un contributo, senza comunque i soldi della Pay, senza ovviamente prendere soldi dai telespettatori, basato solo sull'aspetto commerciale. E noi ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo solo con le pubblicità perché chiudiamo dei bilanci inutile. Abbiamo in realtà con dei dipendenti consolidata ormai da 10 anni e ormai siamo arrivati a 40-50 dipendenti solo con Italia Sport e Communication. Però poi abbiamo diversificato perché abbiamo la Micro Communication che si è occupata di inizialmente la gestione del marketing pubblicitario ma soprattutto mediatico dei club. Abbiamo avuto l'Udinese, ai tempi abbiamo avuto il Novara, ma abbiamo gestito il Gran Galà del Calcio. Il Gran Galà del Calcio nel passaggio dall'Oscar del Calcio di Maurizio Pistocchi con l'Associazione Italiana Calciatori. Poi l'Associazione Italiana Calciatori si appoggia al sottoscritto per fare una nuova riedizione del Gran Galà del Calcio e fu scritto dalla Micro Communication al Teatro Dal Verme per due anni, 2011-2012, con 2.000 persone, 1.200 e 1.400 nei altri due anni. Poi ci siamo occupati di betting, il betting che ovviamente Sport Italia ha rigenerato facendolo diventare in formazione. E da lì è nata anche Sport Italia Bet. Da questa operazione nasce poi la possibilità di vendere le quote del 70% della Micro Communication. Finito questo progetto nasce una nuova società che è Yes Village. Yes, sì, sì, Sport Italia, quindi si richiama sempre a Sport Italia, tutto alla casa madre e Yes Village non è nient'altro che il villaggio sportivo di Sport Italia. E televisioni in Europa che fanno questo tipo di impresa, televisione all'interno di un centro sportivo con 600 bambini del settore giovanile, 2.500 persone che girano per il villaggio nell'arco di tutto il weekend e una squadra di proprietà tra i dilettanti, la serie A dei dilettanti che è comunque la serie D, abbiamo creato un progetto che comunque va verso un'unica direzione che è quella di Sport Italia ma diversifica. Il betting, il centro sportivo, le squadre, i giovani, la televisione. Beh insomma io l'hai raccontato tu velocemente quando conduci, quindi bisogna stare attenti perché lui parla bene, ritmato, io sono molto invidioso dei suoi colleghi quando fanno le quote così perché io ascolto e vedo che insomma sono dicendo di una velocità, poi chi deve capire capisce, no? Tu sei veloce e a me piace la velocità, ma hai raccontato in breve tutto quello che fai ed è la storia che noi vogliamo raccontare al pubblico. Poi parliamo un attimino del tuo programma e ti caccio perché insomma bisogna pure fare una domanda sul calcio, sul campionato, sulle polemiche e sul calcio mercato che si sta per concludere, però io quello che dico le storie di successo delle persone, le raccontiamo in questo contesto di Tarpe S. Conner, perché secondo me sono come dicevano dei latini degli exemplum, dei modelli per i giovani, no? Si parla tanto dei giovani, si parla tanto dei giovani nel nostro mondo, che è un mondo anche giornalistico editoriale. Tu sai che insomma molte imprese chiudono, i giovani fanno fatica, i giovani vengono pagati poco in questo mestiere, quindi per me chi realizza questo, che da posti di lavoro, quindi inverte la tendenza, ti rappresenta una storia. Le storie hanno un filo luce, hanno un principio. E qual è il principio che ha servito Michele Griscitiero? Io anche, prima quando parlavo di micro communication, si è occupata anche di creare il workshop di Sport Italia. Noi abbiamo avuto 1500 ragazzi da tutta Italia, quasi tutti dal sud Italia, perché molti ragazzi si sono rivisti nella mia storia. E io ad un certo punto ho goduto più dei successi dei miei ragazzi che dei miei personali, anche perché ho deciso ad un certo punto di non fare più solo il giornalista, anzi la mia vita il giornalista è il 5%, il 7% dalle 23.30, ma di fare l'imprenditore. Questo nasce da un'esigenza economica, perché tu direttore ad un certo punto, in un passaggio, in una parentesi, dici i giovani vengono pagati poco. Io prendevo a Milano 1000 euro, venivo da Avellino, la casa costa 800, la Peugeot 206 Coupé Capriolet. Caricata di che cosa? Come? Caricata di che cosa? No, ma mia mamma mi aveva aiutato per caricare tutti i valigi, bagagli, ed era, avevo fatto due viaggi, perché poi con un solo viaggio non ce la facevo, quindi 800 chilometri, 800 chilometri, 800 chilometri, 800 chilometri, molti ragazzi del sud si sono rivisti in questa mia storia, ma io ho deciso di non fare più solo il giornalista, ma di fare anche l'imprenditore, per un'esigenza, non per una volontà, perché volevo fare questo mestiere, ma con 1000, 1200, 1300 non riuscivi, se una casa a Milano all'epoca ti costava 700-800 euro solo di affitto. Oggi sarebbe ancora più impossibile. Oggi è ancora più impossibile, e capisco che ci sono delle difficoltà, capisco che ci sono delle difficoltà anche per i miei ragazzi, perché non sono io l'editore che arrivo e pago un ragazzo 5000 euro, non te lo puoi permettere, è il mercato che non te lo consente, e allora ho deciso di fare l'imprenditore di me stesso, creando la mia società Micri, Michele Crescitiello. Oggi io credo che i giovani abbiano preso spunto, e il fatto di averli presi a Sport Italia, molti di loro che hanno vinto i workshop, e anche quelli che non l'hanno vinto sono ancora miei dipendenti, chi invece ha vinto e ha fatto un'altra carriera, Dazon, Sky, Gazzetta dello Sport, Rai, Mediaset, e oggi quando accendo la TV ci sono quasi tutti i miei ragazzi, e potrei fare un elenco. La cosa bella è che comunque hanno avuto uno sviluppo di carriera, una crescita, chi all'interno e chi fuori dalle mura di Sport Italia. Beh, tu sai, tra parentesi che Italpress, ora al di là dei nostri format dentro il multimediale, è un'agenzia che ha una storia sportiva, oltre al direttore responsabile Borsellino, che salutiamo, c'è un direttore editoriale che è il signor Italo Gucci, penso che sia no, una delle grandi firme, insomma, della critica sportiva italiana, del giornalismo sportivo, quindi per questo è anche bello parlare di sport anche in questo senso. Senti, Sport Village dov'è e che prospettive future ha? Sport Italia Village. Sport Italia Village ha una prospettiva fondamentale che è il trasferimento di tutti gli studi di Sport Italia con creazioni di appartamenti, palazzine per i calciatori e per i giornalisti, per creare un villaggio unico dove già oggi abbiamo un campo di calcio, uno stadio che si chiama Sport Italia Arena, dove se vuoi fare concerti puoi fare 8.000 persone, altrimenti partite di calcio con 2.000 persone sugli spalti. Campo di calcio a 11 in erba naturale, a 11 in erba sintetica, a 7, a 6, a 5, un palazzetto 700 posti. Avremo adesso le scene spettacolo, Gerry Calai il 23 febbraio, un palazzetto dello sport e abbiamo anche una palestra e adesso abbiamo inaugurato, inaugureremo breve, tre campi da paddle, una piscina, sono 65.000 metri quadrati e credo che questa sia una scommessa importante perché abbiamo tanti bambini, tanti ragazzini, tante famiglie e avere 600 bambini del settore giovanile per noi alle porte di Monza è un motivo comunque d'orgoglio, a carattere Brianza e Verano Brianza. Io senti, ho intervistato sempre per Italpress recentemente a fine del 2023 il ministro dello sport a body che non è a caso si chiama il ministero dello sport per i giovani e abbiamo parlato del rapporto dello sport per i giovani sul territorio. Un'iniziativa di questo tipo si incunia dentro un territorio, entra dentro un meccanismo che non è più solo imprenditoriale artistico ma imprenditoriale di relazioni, fa parte del territorio. Confermo, però voglio specificare anche che io quello che sto costruendo è che ho costruito come centro sportivo, non ho avuto neanche un euro di un contributo pubblico e ho fatto tutto con le mie forze, con le forze di Sport Italia. Tu dirai direttore, va bene l'hai voluto tu, fai l'imprenditore. Sì, però molte volte si creano questi progetti per cercare se c'è il bando, c'è un altro bando. No, non è questo il significato, il significato è che tu oggi hai a che fare con il territorio, hai a che fare con la gente, con le famiglie, con i bambini e la grandissima soddisfazione è che il marchio Sport Italia te lo ritrovi in tutta Italia perché tutte le maglie portano il tuo brand e noi abbiamo creato questo brand per valorizzarlo non solo in televisione ma anche sul territorio. Senti, ma a 40 anni che cosa vuoi fare per il futuro? Hai fatto tanto per la tua età? Sai qual è il rischio? Che poi uno, come si dice, il mondo è futuro, no? Si vive nel progetto, nei sogni. Io ho un grande difetto, il mio più grande difetto è non avere pazienza e il mio più grande difetto è non godermi il futuro ma pensare solo al presente perché io voglio costruire ma voglio costruire adesso, il tutto è subito, che non è diciamo non accontentarsi mai. Quando ho chiuso l'operazione a aprile scorso del 70% con il gruppo Blackstone, gli americani, con gli spagnoli di CIRSA che per me è stata comunque una forza importantissima perché ho chiuso un deal, il più bello della mia vita, non ce ne saranno altri sicuramente di questa portata. Il giorno dopo ho detto sì ma adesso devo raggiungere qualche altro obiettivo e da lì è nata l'idea dello Yes Village, dello Sport Italia Village perché voglio raggiungere sempre più obiettivi. Io vado a dormire alle 1.30 alle 2 perché la trasmissione finisce a mezzanotte e 30, mi sveglio alle 6.37 e lavoro dalle 7 all'1 e mezza di notte, all'1 di notte perché io ho una grande passione che è quella di costruire sempre di più e soprattutto a me il futuro non piace, io mi godo il presente e se lavori bene nel presente ti ritrovi tutto nel futuro e in questi dieci anni penso di averlo dimostrato a me stesso. Senti, parliamo un attimo nel tempo che ci rimane, qui siamo rigorosi insomma. Tu sei rigoroso con i tempi, ti vedo quando conduci io pure e anche perché una volta a studio aperto, quando uscivo a studio aperto a 18.30 avevamo sballato di un pezzo a 20 secondi, ci chiamavo il giorno dopo che avevamo mandato uno spot fuori del cumulo orario, ho detto c'hai dati voi i soldi? No, non ce li abbiamo. C'era l'affollamento del 18% che poi adesso è testata al 21. Esatto, quindi i tempi era pregreso, poteva pure tranne insomma proprio cose importantissime chiudeva, punto e basta. Allora al di là di questo torniamo un po', diciamo abbiamo dato in un contesto economico, io dico sempre noi dobbiamo raccontare la storia degli imprenditori puri e come tu hai detto no? Senza lacci pubblici in questo caso, perché secondo me antropologicamente l'Italia, lo scrive Di Colfi, un grande economista, ha una visione inconscia dell'imprenditore ancora sbagliata, come se fosse o un rivale o una figura antipatico, un profittatore, uno abile, furbo e non un signore che al di là di sé e di quello che guadagna legittimamente i suoi profitti, meritati, crea nel territorio e per le persone lavoro e quindi ricchezza. Io però ti dico direttore, in questo caso devo essere abbastanza onesto, ho trovato invece sia nell'amministrazione pubblica che nell'agente del territorio una grande apertura, probabilmente perché l'ho trovata in un periodo di difficoltà post-covid, nessuno avrebbe fatto se non un folle qualcosa di così forte e di così veloce e questo per me è un grandissimo riconoscimento, passare tra la gente, tra le famiglie, tra i bambini e sentire grazie Presidente, a me piace ed è quella una grande soddisfazione, oltre che vedere, costruire e creare delle cose che tu prima potevi solo immaginare su un pezzo di carta. Queste sono delle grandi soddisfazioni, ma l'ho trovato sia nell'amministrazione pubblica, nei sindaci dei due paesi, Venano, Brianza e Cara De Brianza, che ovviamente tra la gente comune. È giusto, è giusto dirlo anche questo. Senti, hai avuto questa intuizione, hai comprato la Coppa d'Africa in questo gennaio che sta avendo un successo pazzesco, però no. Sta avendo un successo pazzesco che ha testato Sport Italia costantemente e quotidianamente tra la prima televisione sportiva in Italia, non un giorno ma in maniera consecutiva, nonostante ci sia stata la Coppa Italia in chiaro, nonostante la Supercoppa in chiaro, nonostante il campionato su The Sun and Sky. E siamo la prima televisione sportiva e sinceramente, devo essere onesto, è stata un'intuizione, sì. La Coppa d'Africa in chiaro mancava dal 96, Telemonte Carlo. È stata un'intuizione, abbiamo lavorato bene, abbiamo programmato bene, ma siamo stati anche un po' fortunati. Non credevo così tanto, invece è stato così tanto tanto. E devo essere anche onesto, ci sono alcune competizioni che sono per il chiaro, altre per il criptato, altre per l'OTT. La Coppa d'Africa in chiaro su Sport Italia funziona all'ennesima potenza. Stessa competizione o sul criptato o sull'OTT sarebbe stata una competizione. Però posso dire, la penultima considerazione, poi chiudiamo, che io lo dico perché tu sai che oltre che un giornalista sportivo sono molto più un giornalista politico, anche un cronista, noi parliamo dell'Africa sempre in un modo unitario, nell'inconscio collettivo, è un brutto termine, se vuoi dire il coscio collettivo, c'è l'idea dell'Africa come un laboratorio per l'immigrazione. Invece è un grande continente con grandi storie, grandi colori, grandi culture, ora grandi figure del mondo del calcio, che è un calcio che sta portando nervature anche nel calcio europeo e la gente guardandolo secondo me percepisce questo continente, non è solo pallone, in un altro modo. Quindi è un racconto completo, non è solo un racconto di una performance sportiva. È quello che abbiamo fatto anche noi, perché abbiamo unito lo sport e il calciatore, non dobbiamo raccontare Salah, lo conoscono tutti, ma Salah che gioca contro il giocatore africano di Serie C che gioca nell'Alessandria. E questa è la follia. E la follia è che vediamo Osimène che arriva al Maradona per Napoli-Milan con le cuffie tutto concentrato, passano tre giorni in Africa, arriva ballando. E poi anche a livello sociale ci hanno spiegato perché si suona il tamburo, ci hanno spiegato come si chiama, perché arrivano a fare quel balletto, perché vivono così la Coppa d'Africa dentro e fuori. E questo costume sociale, colore, secondo me ha fatto un mix vincente. Cos'è che ti diverti di più ancora nella conduzione del tuo programma? C'è una cosa che ti diverte ancora? La conduzione mi diverte, ma non del tutto. A me diverte tantissimo, ripeto, la parte del progetto di vedere quello che oggi metti su un pezzo di carta e poi lo rivedi costruire. La conduzione la faccio, mi diverte. Quando c'è il calciomercato mi diverto. Quando il mercato è fermo, come in questo periodo, non mi diverte. Però a me piace costruire e vedere l'opera realizzata. Senti, nessuno è profeta, però insomma alla fine, insomma, economy, itap, sono meno, tutti vogliono svecchi e vincere il campionato. Inter-Juve. Io lo sto dicendo dall'8 agosto, andate su Google, Chris C.T. è lo Juve Scudetto. Ho detto queste cose, mi hanno preso per pazzo l'8 agosto. Forse non lo vincerà la Juventus, l'Inter è più forte, sì. Per me, come ho detto l'8 agosto, lo vincerà la Juve. Allora, staremo a vedere, ci rivedremo fra un po' di tempo, facciamo un fact-checking, però avevo piacere di raccontare questa storia. Grazie. Perché secondo me poi alla fine tu fai tanta comunicazione, però qualcuno deve fare anche la comunicazione su di te e inquadrare il personaggio nel suo complesso, giusto? Giustissimo, grazie. No, grazie a te, grazie a Michele Criscitiello che è stato qui da noi, ci vediamo insieme le novità di un mondo che magari col caccio c'entra poco, però c'entra molto con l'economia nazionale, che è l'agri-food. Ecco il servizio. Un settore in cambiamento e reattivo nell'adattarsi ai nuovi stili di vita e modelli di consumo è quello del gelato artigianale che, con circa 39.000, tra bar gelaterie, gelaterie pasticcerie e gelaterie pure, impiega oltre 90.000 addetti per un fatturato complessivo che sfiora i 5 miliardi di euro. Un comparto in buona salute che, al pari degli altri pubblici esercizi, si trova al centro di nuove dinamiche di sviluppo che spingono le imprese a un impegno continuo per tenere alto il livello della qualità e dell'innovazione di prodotto e di servizio. Temi questi di cui si discuterà al CIGEP, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, in programma fino al 24 gennaio a Rimini. Secondo Fipe Confcommercio, tra i principali trend osservati in questo comparto c'è quello della destagionalizzazione, in costante crescita negli ultimi anni. Sono ormai quasi il 40% le gelaterie artigianali aperte tutto l'anno, mentre oltre il 90% lavora per un periodo di almeno 8 mesi. Gennaio si conferma il mese preferito per la chiusura, seguito da dicembre e novembre. Restano tante le sfide aperte, su tutte quelle dell'occupazione. In vista della riapertura di molte attività, nel trimestre gennaio-marzo le gelaterie avranno bisogno di 1.170 gelatieri e 6.700 addetti alla vendita al banco. Secondo una rilevazione Union Camera e Excelsior, il 73% delle imprese ha difficoltà di reperimento del personale, soprattutto per inadeguatezza dei candidati. È davvero tutto per questa puntata, ricchissimo come vi avevamo promesso, grazie di essere stati con noi, appuntamento a venerdì prossimo con Italpress Economy. Arrivederci.